marocchino ma l'italiano italiano 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 io ho detto prima tu marocco ragazzi ho fatto un piccolo viaggio fatto viaggio un piccolo viaggio sono venuto in marocco o marocco 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 ha così tanti soldi allora io sono venuto voglio un lavoro mi serve un lavoro e un po di soldi mica tu voglio lavorare perché tu chiede un senso lavoro perché tu chi per me sono senza lavoro non è che tu mi come andare a comandare tuo amico marocchino amico comanda italia al comando adesso io qua comando io qua marocco comandare io non comandare io noi comandiamo dove andiamo in Italia marocchino comanda qua comanda marocchino forse tu non lo capito tu forse un poco indietro ma lui marocco italia in marocco marocchino comanda come andare marocchino tutta italia comanda marocchino e mi ha detto di andare via fuori fuori dai coglioni ma ha detto fuori fuori dai coglioni scusa dove è il problema adesso io sono qua marocco non ho problema mio e adesso voglio comandare io tu cosa comando io tu cosa tu cosa comandare ma puoi prendere cammello ma puoi prendere cammello tu fai taxi cammello tu vuoi lavoro tu vuoi lavoro tu vuoi lavoro pulire i cammelli pulire i cammelli dai 2,3,2,1 euro io comandare io comandi niente io qua comandare quando comando marocchino marocchino comanda casa tua perché anche casa nostra perché pieno di marocchino e quello di marocco io italiano non è tu cosa comandare via via tutti fuori fuori di qua tu comanda ma tu mi fa ridere io comandare ma tu che italiano sei tu vai di là perché tu vai di là non sape niente perché qua qua non c'è nessuno tu stai fortunato a trovare me perché sennò ti fai un culo così io esserò già un marocchino buono io sono già un marocchino buono che legge roba italiano tu senti come parlo vedi italiano? si sto leggendo roba italiane perché tu ha trovato a me che io capisco l'italiano perché tu probabilmente quello mandato a fa un culo a te fatto un minuto fatto 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 che non ricri era mio fratello mio fratello sta fare probabilmente e allora noi italiani io non c'è cosa facciamo di là non comandare fuori qua neanche fuori e italiano cosa fa? pulire cammelo pulire cammelo è l'unico lavoro che c'è francesco niente che paese posso andare? guardi torni da mio fratello che hai da mio fratello mi dispiace guarda mi dispiace ma credi credi a me da tanto mio cuore mi dispiace tu mi devi un consiglio mi devi un consiglio ti dà tu consiglio aspetta io sono italiano dove andare? ma tu fai parlare? in che paese? tu devi andare in Italia chiedere a mio fratello che ti dà lavoro? allora torno in Italia e chiedo a... facerlo? ah ok non nemmeno ho capito allora franciaco torniamo in Italia allora io torniamo in Italia e chiedere per favore per cortesia mi dà lavoro a fratello marocchino marocco Va bene, mi saluto, grazie, speriamo di lavorare, speriamo perché succeda soldi.